La sua fuga è durata solo qualche minuto, poi ha dovuto arrendersi ai carabinieri che l'hanno inseguito ed arrestato. Si è concluso così il tentativo di furto ai danni della farmacia di Corso Rosselli a Voghera, messo in atto da un diciottenne di origini marocchine. Il giovane, anche se sprovvisto di documenti, è stato identificato e non avrebbe precedenti penali alle spalle. Sarebbe arrivato in Italia l'anno scorso, senza però regolarizzare mai la sua posizione. L'altra notte ha forzato la saracinesca della farmacia gestita dal sindaco di Brallo di Pregola, Christos Clapanidas, riuscendo ad entrare e a rubare la cassa dal registratore contenente circa 400 euro. L'incursione ha fatto però scattare il sistema di allarme collegato alla centrale dei carabinieri, che sono immediatamente intervenuti incocciando nel ladruncolo in fuga. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a fermarlo e a recuperare la refurtiva che aveva nascosto sotto a un'auto in sosta nelle vicinanze, processato per direttissima poiché colto in flagrante, è stato condannato a quattro mesi di carcere con pena sospesa.